Come in italiano, anche in latino, l'aggettivo qualificativo può trovarsi in diversi gradi, cioè esprimere una qualità a diverse intensità. Come in italiano, anche in latino, l'aggettivo qualificativo può trovarsi in diversi gradi. I gradi dell'aggettivo esprimono la sua intensità. Si parla quindi di aggettivo positivo quando si indica la qualità al minimo grado. Per esempio, quella statua è bella. Si parla di comparativo quando invece si istituisce un paragone tra due oggetti che vengono confrontati appunto rispetto a una loro qualità. Questa statua è più bella di quella e allora avremo il comparativo di maggioranza perché nel primo termine la bellezza è in un grado di intensità maggiore rispetto al secondo. Quella statua è meno bella di quella e quindi avremo un'intensità di un grado inferiore, e quindi comparativo di minoranza, questa statua è bella quanto, quella, tanto, quanto, così, come esprimono il comparativo di uguaglianza. Per quanto riguarda il superlativo, invece, distinguiamo il superlativo assoluto quando non c'è un confronto tra un elemento e un altro gruppo di elementi o un altro elemento riguardo alla qualità. Per cui io dico che questa statua è bellissima senza confrontarla con niente altro. Oppure il superlativo è relativo se esprime la qualità al massimo grado ma rispetto a un altro elemento, un gruppo di elementi. Questa statua è la più bella di tutte o è la più bella di tutte quelle che si trovano in questa stanza o in quel luogo. Cominciamo con il comparativo di maggioranza. Mentre l'italiano basta aggiungere l'avverbio più all'aggettivo, al grado positivo, più bello, più alto, in latino è necessario invece formare un altro aggettivo attraverso un suffisso e si parla quindi di forma organica. Come si procede? Si prende un aggettivo della prima o seconda classe, si trova il tema togliendo la terminazione e si aggiunge il suffisso ior per il maschile femminile, ius per il neutro. Facciamo due esempi con un aggettivo della prima classe, callidus, callida, callidum, prendiamo il maschile, callidus, togliamo us, abbiamo il tema callid, aggiungiamo ior, ius, troviamo callidior, callidius. Aggettivo della seconda classe, facili, sfacile, prendiamo il maschile femminile facili, stogliamo is, abbiamo il tema facili, aggiungiamo ior, ius, e troviamo facili, ior, facilius. Come si declinano questi aggettivi? Come un nome della terza declinazione, primo modello, quindi l'ablativo singolare e, il genitivo plurale um e i casi reti del neutro plurale a. Per quanto riguarda il secondo termine di paragone, abbiamo due possibili costruzioni. Quamma più il caso del primo termine, il primo termine può trovarsi in tutti i casi. È sempre possibile questa costruzione, quindi con tutti i casi, ma è obbligatoria nei casi obliqui. La seconda costruzione, ablativo semplice, non è possibile con i casi obliqui, ma è possibile invece con i casi retti, ed è obbligatoria con il pronome relativo e le frasi negative, anche con le interrogative che hanno un senso negativo. Le vedremo, sono le interrogative retoriche che presuppongono una risposta negativa. Il secondo termine di paragone, cioè il secondo oggetto che viene posto a confronto. Vediamo le due possibili costruzioni. Quamma più il caso del primo termine. Icmons, che è in nominativo, quindi il secondo termine dopo il quamma andrà in nominativo. Ille, l'aggettivo intensivo è alzior, questo monte più alto di quello. Humanus animus, plenior, ecco l'aggettivo è plenior, di cosa è più pieno, che cosa vengono messi a paragone. I vizi e le virtù. Siccome vizis è ablativo di abbondanza retto da plenior, anche virtutis, virtus virtutis, andrà in caso ablativo. Quindi vizis quam virtutibus. In questo caso è obbligatoria la costruzione con il quamma. Mentre nel primo potevamo anche fare ic mons alzior illo. è ablativo illo. Vediamo invece i due casi in cui è obbligatorio l'ablativo semplice, oltre ai casi obliqui. Abbiamo quindi la frase negativa nulla res hominummente quindi nessuna cosa è più oscura della mente dell'uomo. Qui obbligatorio l'ablativo perché c'è nulla. Nella seconda, il secondo termine di paragone è qua. Quindi, pecuniam sprevi, ho disprezzato il denaro del quale ritengo più preziosa la libertà. Ecco, quindi il secondo termine di paragone è il pronome relativo qua riferito a pecuniam e quindi è obbligatoria la costruzione con l'ablativo. Il latino, anche in italiano, ma soprattutto il latino, è da tenere presente il cosiddetto comparativo assoluto. Absoluto sappiamo già dall'ablativo, dal costrutto dell'ablativo assoluto che significa sciolto. Come riconosciamo l'ablativo assoluto? Dobbiamo osservare due cose. Allora, nella frase non compare neppure sottinteso secondo termine di paragone e quindi questo intensivo non ha un vero e proprio valore comparativo, ma si limita solo a esprimere il significato dell'aggettivo a un grado di intensità maggiore. Come lo traduciamo in italiano? Aggiungendo un avverbio intensivo. Esempio, piuttosto alquanto, abbastanza, troppo. Claudius audacior fuit. Claudio fu troppo audace, piuttosto audace, alquanto audace, abbastanza audace, dipende poi dal contesto. È possibile anche che si mettano a confronto due aggettivi. In questo caso, in latino, le costruzioni possibili sono due. O l'aggettivo al grado intensivo più il quam più l'altro aggettivo al grado intensivo, oppure entrambi gli aggettivi al grado positivo preceduti rispettivamente da magis e da quam. Facciamo qualche esempio. Sempronia è più dotta che bella. Vedete che c'è doxior e pulcrior entrambi con il suffisso ior, quindi entrambi al grado intensivo. Ma noi possiamo anche fare Marcus est magis, poi il positivo pius, quam prudens, quindi due positivi con magis quam. Quindi Marco è più devoto che saggio, è più pio che prudente.